www.redigio.it e la storia continua la madonna dei miracoli Per Caterina Galanti, quella che avrebbe dovuto essere una giornata come tutte le altre, sarebbe andata a comparare lo strutto, poi a fare un po' di legna e infine ramendare i panni del marito, ma prima di tutto voleva assistere alla Santa Messa. E quel 30 dicembre 1485, come innumerevole altre mattine, entrò nella chiesa di Santa Maria, presso San Celso. Il parroco aveva da poco iniziato a celebrare la funzione e Caterina si sistemò al suo solito posto, recitando subito una preghiera per scusarsi con il Signore del lieve ritardo. Tutto attorno a lei appariva normale, i massicci candelabri sull'altare maggiore, i ceri accanto alla cassetta delle offerte, le statue e gli affreschi che addornavano il Tempio. Anche quel velo che da tempo immemorabile copriva, chissà perché, il dipinto della Vergine era sempre lì, a occultare la madre di Nostro Signore. Ma a un tratto Caterina credette di sognare. Il velo che copriva il volto della Madonna cominciò lentamente a salire mostrando il dipinto senza che la mano umana lo toccasse. E mentre si alzava, un alone di luce intensa andava formandosi attorno alla Sacra Figura. Caterina non riuscì a trattenere un urlo che cheggiò in chiesa, ma, al seguito delle sue grida, dei molti fedeli seduti incinocchiati fra le volte, è anche essi testimoni del fenomeno. Da quel momento, la Madonna di Santa Maria divenna meta di credenti che chiedevano grazia e formulavano voti. Nel 1630, e precisamente il 2 luglio, la Madonna diede segno che la peste avrebbe finito di affliggere i milanesi, e così accadde. Più di due secoli dopo, riceveva ancora le suppliche dai cittadini, perché li liberasse dai soldati di Radeschi. E anche questa volta ebbe a compiacersi il miracolo. Fuggiti gli austriaci, alla Madonna miracolosa, come veniva ormai da tutti chiamata, i nobili di Milano offrirono una lampada d'argento per significare la loro gratitudine. E ancora oggi è chiamata lampada di Radeschi. Il sacro velo era conservato, e ora conservato, in una teca di cristallo, e fu per molti decenni mostrato alle coppie di giovani sposi, quale auguri e benedizioni per la loro vita in comune. Le spose, in visita al tempo dopo la cerimonia annunziale, donavano il loro bouquet alla Madonna. Ma vuoi perché i matrimoni sono calati? Vuoi perché il sentimento religioso, se ne è andato via via fiolendo, sono relativamente pochi gli sposini che tengono fede a questa vecchia tradizione? Ai nostri giorni, l'immagine della Madonna, quasi completamente svanita, è nascosta dal pagliotto di una lamina d'argento che ricopre la sua parte anteriore dell'altare dell'Assunta. Nella chiesa, divenuta Santa Maria dei Miracoli, esiste un affresco del XV secolo, riproducente una Madonna col bambino, e i santi Nazaro e Cerso, contornati da numerosi ex vuoto. La Madonna è detta delle lacrime, perché il 13 luglio del 1620 questa effigie pianse davanti a numerosi testimoni. www.redigio.it E la storia continua.